Amici appassionati di I'm Fish, siamo tornati qui a vedere quali altri bestemmie e avventure ci aspettano nel livello 2 del pesce blu Nelle profondità, vediamo un po' Nel primo livello abbiamo sofferto abbastanza, specialmente se consideriamo che era solo il primo livello Eravamo anche un po' inesperti per quanto riguarda il volo, l'abilità speciale e tutto Ora dovremmo andare leggermente un po' più smooth Intanto scusate, mi sposto perché ho registrato Warzone prima Ok, mi metto qua, ok perfetto Bene, cominciamo col botto, che bello, via Ok, vai No, 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 non è un bel inizio ragazzi, non è un bel inizio, diciamocela tutta Ok, ci prendiamo una bella rincorsa La Bene, vola, 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 vola Tranquillo, vola sereno, buttati adesso, bravo Andiamo Là Bravo, molto semplice per adesso Anche se ci siamo già bloccati due volte Perfetto Ah, c'è corrente Non lo sapevo Dove siamo andati? Dove va? Signore Dove sta andando? Non mi dire che torno alla prima vasca, ti prego No Ok Bene Ok, dovevamo andare qua, evidentemente Va benissimo Mi piace Dunque, ok Dobbiamo andare verso di lì Abbiamo visto tutto Andiamo in picchiata Sì, 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 sì Ho capito No Muoio Vabbè Comunque abbiamo capito, abbiamo capito Ok Quindi dobbiamo andare là Perfetto Buttati qua Ottimo Qua non c'è sta una mazza Vai Ecco, vedete Una volta che uno ha la padronanza del volo È tutto più facile Dunque, qua c'è sta specie di fontana Beh, prendiamo anche La Via Bravo Vola Ehm Andiamo qua Andiamo di qua Vabbè, intanto mi butto No, che muoio No, che muoio Uffa Mi voglio buttare Vabbè, dai Siamo qua Buttati A capofetto A capofetto Allora Il pane Niente Io l'avevo preso però Buttati In picchiata Ma se non è arrivato Uuuuh L'ultimo filo di vita Ok Dunque Ah, qua c'è un tubo Vado nel tubo? Vado? Mi insinuo? No Non lo so Non mi pare che vada nel tubo No Vabbè Ho capito Niente tubo Ho capito Niente tubo Andiamo di là Eccolo là Vedo già il checkpoint Che ci saluta Via Vai col checkpoint Vai con il checkpoint Bravo Vai Dunque Da qua Lì c'è la cosa Andiamo qua Va Bravo Ok No, no Mi serve più No, ho sbagliato Serve più rincorsa Serve più rincorsa Vai Bene Ci sputa Ma ci ha sputato In un'altra parte Scusi No Ci deve sputare Lassopra Dove devo andare? Ma dove è finito? Ma dove sono? Aspetta C'è Dunque Io devo andare Lassopra Oh E dai Ma porca miseria Porca Certo Col volo abbiamo sempre qualche problema Oh Qua Perfetto Non era lì Porca miseria Incominciamo con i problemi La Vai Oh Qua Fermo Non ti muovere Perfetto Ora Scendi Ma io vorrei avere Un minimo di Non vedo Nulla così Con questa telecamera Però Lì No Ah ma mi sto muovendo Ah Ah no Sto fermo Non mi muovo No Oh Sono arrivato Perfetto Secondo me Cari ragazzi La chiave di tutto È proprio Quel cartello Sì 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 Aspetta Vediamo se ce la faccio Da andare qua No Capisera Porca Porca Vai 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 Ci siamo Ci siamo Sì Oh Alleluia 4.000 volte Ci ho provato Non morire però Non morire Grazie Credo che dobbiamo Entrare qua dentro Da qualche parte Qualche buco In qualche tubo Per carità Vi prego Fatemi entrare Fatemi fare qualcosa Ando vado Ci sarà Qualcosa Abbiamo sbloccato No Che devo fare Aspetti Non mi sto raccapezzando Allora 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 Un attimo Fatemi D'annocchiata Dunque 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 Ah Dobbiamo continuare Di qua Immagino Sotto È giusto Sì Sì Perfetto Perché abbiamo alzato L'acqua Sì Esatto Esatto Grande 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 C'è pure il checkpoint Quindi Direi Perfetto Occhio al palo Bene Checkpoint Dai che questo livello Lo superiamo con molta maestria E leggeteria Non oso immaginare Il terzo Visto che già Con il primo livello Ci siamo tolti la salute Aspetta Perfetto Vabbè Ci dovrei arrivare Dai Rotola 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 Ci arrivi Ci sei arrivato Ci sei arrivato Dai Ci sei arrivato Bravo Altro checkpoint Ottimo Un altro cartello Lì Vai che ce la faccio Il primo colpo No L'ho mancato Come uno stronzo Do cazzarola Vai Torna in acqua Torna in acqua Bravo Oh sono in acqua Ok Ritorniamo là Ritorniamo là Ritorniamo là Dunque Qua esplode tutto Però mi sa Ok Quindi andiamo di qua Nella nostra bolla d'aria Perfetto E' lì No L'ho mancato Di un soffio Vabbè ma qua ci arrivo Dai Giusto No Aspetta Ma po' Che odio Oh E dai Che fa Dove è andato Dove andare di là Eh ma io dovevo andare di là però Ah si alza l'acqua Si alza l'acqua Perfetto Ci sta Tra la naffa Tra la naffa Andiamo 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 Bravo Innalza Innalza Ti fammi passare Levati cartello Maledetto Via Un altro bel checkpoint Ce lo prendiamo Con tanto piacere No Dunque Ora come arrivare qua sopra Per un bel salto Soltanto Solo una questione di salto Ma qua sotto Posso passare Se passassi da qua Oh no Probabilmente no Eccala E infatti è finita l'acqua qua E se saltassi Vabbè dai Intanto c'è stato il checkpoint Raga proviamo No Non ci arriveremo Probabilmente No Dobbiamo far passare l'acqua da qua No 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 Ok 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 Quindi Dobbiamo andare a prendere Dobbiamo fare passare l'acqua Da qua sotto Dove cazzo Lo sto andando di qua Ok Eh non ci arrivo Eh non ci arriva mai Che spinta di merda che ha Oh è là sopra cos'è Aspetta Quello Ah aspetta aspetta Allora di qua dobbiamo andare Aspetta aspetta Qua è più basso Sì 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 Là ti prego Mamma mia Prendiamo più rincorsa Più rincorsa Gira È lì Dai Ci sei arrivato Mamma mia E là Vai che ci arrivi Vai Vola 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 Valedetto Rotola 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 Ti prego Per morire Ti supplico Sei arrivato Bravo Grazie Beh e adesso Ah non è un aspiratore Credo fosse un aspiratore Però vabbè Ci dovremmo arrivare No Manco per niente Ci arriviamo Ma allora che cazzo Non è servito Arrivare fino alla sopra Scusi A nulla è servito Però credo Noi Sì sì Raga Dobbiamo andare Per forza È più alto Quindi avremo più spinta Proviamo a tornare indietro Ragazzi Perché là c'è qualcosa Effettivamente Però qua l'acqua è troppo basso Non riesco a prendere velocità Allora proviamo qua Vai Buono Buono così Buono così Buono così Ok Abbiamo fatto alzare Un altro po' di livello Dell'acqua Adesso forse da qua Bravo No Ok sto scherzando Però sì È di là È di là È di là Bravo Buttati qua Vabbè Possiamo rotolare Senza problemi Giusto? Giusto Pesce malefico Giusto? No Non è giusto Prendiamo questo tubo L'avevo detto io Che c'era cosa da fare Ok Prendiamo il checkpoint Bravo Bravo E adesso Possiamo tornare di qua Giusto? Torniamo dove eravamo prima Praticamente Dovrebbe essere così Con l'acqua alta Mo' ci dovremmo arrivare Vai Ok Ok Bravo di là Plana Amico mio Plana Plana Prendi anche il checkpoint Prego Bravo Non ho idea Di dove io Stia andando Ragazzi Mi sono assolutamente perso Sto andando molto a caso Ok di là Di là Di là Vedo il checkpoint Quindi io seguo Io seguo il checkpoint Diciamo così Se c'è un checkpoint Vuol dire La strada è giusta Perfetto Ok Dunque Adesso dovremmo Arrivarci Perché In teoria L'acqua è più alta Infatti Mo' ci arriviamo Senza problemi Benissimo Abbiamo aperto il cancello E quindi l'acqua Dovrebbe defluire E infatti Lo sta facendo No Aiuto No No E l'acqua Arriva No non arriva Veramente Vabbè Meno male che Il checkpoint era qua Comunque Allora devo salire Addosso a Dove Ah arriva Arriva Ma ecco Ha chiuso però Aspetti Non ho capito Ma scusi Lei passa Ok Ok si ferma E poi dobbiamo Ho capito Dobbiamo salire Sopra Eh Un po' difficile Ma ci proviamo Dai Non ci arrivo Per un so Si ci è arrivato Perfetto Ah L'abbiamo fatto Troppo presto Non avevo visto Il Il carrello Che avanzava Va bene Dai ci siamo Vabbè Ci siamo sbloccati Dopo un po' È stato difficile Però Ok Andiamo avanti Spero che siamo Verso la tine Dove ci butta Dove ci butta Bene Di qua Qua c'è una porta Qua non c'è una mazza Là c'è un checkpoint Quindi io andrei Verso di qua Sì Sì Che ne dite Mi sembra il posto giusto Tutto allagato Qualche è successo Ok Un altro checkpoint Perfetto Andiamo dritto Dove Dove sono diretto Di qua Vado di qua Mi insinuo Non credo Che sia la strada giusta Neanche vedo una mazza No Di qua non si deve andare Non vedo nulla Di là Siamo appena arrivati Là c'è un checkpoint Quindi da là sopra No Ma porca Devo capire Devo capire se Dentro ste bacinelle C'è sta Ok c'è dell'acqua Perfetto Allora dobbiamo andare Una a una Dobbiamo fare tipo Ok ho capito Ho capito Ho capito Ho capito Ho capito Ho capito No però Così Porche Qua è difficile Qua sarà molto complessa Vai Bravo Vai Bravo Ora con calma Bravissimo 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 Cazzarola Vai Mamma mia Tre ore Ragazzi Tre ore Vai di qua No Ah meno male C'è il checkpoint Oddio Meno male Grazie Dio Grazie Vai Ma dove vado Non c'è acqua Ma Scusi Non c'è acqua Ma non c'era Ah c'era un secchio Beh io non l'ho visto C'era un secchio Eh di qua Non l'ho mai visto Non c'era mai nella vita Però Vabbè Niente Niente Può capitare Non l'abbiamo visto Fa niente Fa niente Ma andiamo Ma Ah no Credo che noi siamo arrivati Proprio di qua Ma è stato Si O no Lo so perso Si 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 di qua Certo si manda di qua Porca C'è miseria Porca Ah c'era il secchio Con l'acqua qua Ok dovevamo scendere L'altro lato Ok dovevamo andare di qua Mea culpa Mea culpa Mea culpa Dobbiamo andare di qua Ma il secchio Non c'era mai nella vita Sto secchio Vai scendi con calma Piano Piano Vai Vai Gira 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 Piano Piano Che c'è la discesa Qua piano Non riesco a controllarlo Purtroppo Piano 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 Oddio No No Non caderti Prego Ok Vai Segui di qua Ce l'abbiamo fatta Abbiamo finito Si Ok ci possiamo buttare Grazie E qua Mo che favo Che dobbiamo fa Devo prendere qua La batteria Ah ho capito Ho capito Devo inserire la batteria Un po' staccata Ok La batteria Però E mo qua Un po' difficile Perfetto E mo che succede Beh Dobbiamo tornare indietro Mi sa No Che devo fare Chi mi aiuta Vai Perfetto Ci siamo Eh dai Eh ma mo Che cosa è successo Avrà aperto una porta Qualcosa Si infatti Ci ha aperto una porta Di qua Ottimo Un ascensore Abbiamo finito Dai Sì Ce l'hai fatta Sì Ogni volta È un'impresa Oh 16 rigenerazioni Però l'altra volta Abbiamo fatta 70 Qualcosa del genere Oddio ragazzi L'ultimo livello Con il pesce blu Quindi mi raccomando Fatemi sapere la vostra Anche questo è stato Veramente difficile Un bel like Un'attenzione e iscrizione Per sapere il canale Io come sempre Vi voglio bene Vi aspetto Tutti quanti domani Con un nuovo Fantastico video Ciao 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 Grazie a tutti.